Salve a tutti, si è appena conclusa la prima commissione del sociale dove abbiamo portato in discussione il nostro progetto che consiste nel creare una pagina nel sito comunale relativa alle associazioni di volontariato che operano sul territorio di Cadala. La nostra decisione, cioè il nostro progetto nasce dal fatto che vogliamo creare un punto di incontro fra le associazioni e il cittadino ma anche fra associazione ed associazione, dare modo al cittadino di trovare informazioni precise ed anche indicazioni su dove e come fare volontariato ma anche permettere alle associazioni di mettersi in contatto per poter progettare e portare a termine attività che autonomamente magari non potrebbero fare. Il nostro interesse è anche cercare di promuovere una forma di volontariato differente, cioè permettere alle associazioni di caricare quelle che sono le necessità di maggior numero di volontari per periodi limitati di tempo come nei casi di manifestazioni o attività particolari. Inserendo questa richiesta di aiuto all'interno della pagina potrebbero trovare disponibilità da parte di quegli utenti che normalmente non hanno tempo di fare volontariato mentre invece per situazioni particolari potrebbero dedicare anche un'ora del proprio tempo a dare una mano in attività specifiche. Questo diciamo è tutto, maggiori particolari dettagli li potremo dare più avanti. Grazie.